Oggi siamo qua a presentare la nostra azienda, una presenza da 35 anni sul mercato, con headquarter negli Stati Uniti e presenza a livello globale. Dsonix si occupa di soluzioni in campo visivo, abbiamo diverse linee di prodotto, oggi a Didacta presentiamo la linea relativa ai proiettori, a quella dei monitor e in particolar modo ai nostri pannelli interattivi, le nostre lavagne digitali che quest'anno ci hanno garantito di essere leader di mercato a livello globale. ViewSonic offre in particolar modo per i pannelli interattivi la serie ViewBoard in più modelli e a bordo è presente il software MyViewBoard che offre un'esperienza unica per i docenti. È in grado di supportare l'attività quotidiana in maniera creativa e offrendo strumenti interattivi. Sonic è quindi in grado di offrire una soluzione a 360 gradi completa sia per la parte hardware che per la parte software. Per la Scuola 4.0 siamo disponibili per essere contattati, per mostrare le nostre soluzioni e farvi illustrarvi tutte le potenzialità di questi strumenti che sono in grado di supportare l'attività didattica nell'attività quotidiana. Siamo presenti sul mercato con una rete di partner e quindi riusciamo a dare copertura sull'intero territorio italiano. Per qualsiasi informazione vi invito a contattarci in modo da organizzare una demo e illustrarvi i nostri prodotti e capire assieme come poter coprire le esigenze del vostro istituto e della vostra organizzazione.